om shanti il potere della felicità il mantra che vi tiene sempre felici è il mantra niente di nuovo niente di ciò che accade è realmente nuovo la storia si ripete le esperienze ritornano e sono già state vissute c'è qualcosa di veramente nuovo se non la nostra percezione che sia la prima volta e poiché non c'è niente di nuovo siete già equipaggiati per gestire e superare ogni prova gli esami e i test di vita arrivano quando siete pronti e pertanto potete superarli con successo siate consapevoli che ogni momento è prezioso per usare le proprie virtù valori e qualità le prove vengono per chiudere vecchi conti e per farci praticare le virtù allora il mantra niente di nuovo diventa come il bastone del saggio il suo atteggiamento è consapevole e lungimirante e così il vostro om shanti è un'altra cosa che si tratta di più è un'altra cosa che si tratta di più Grazie.